salve e benvenuto a questo appuntamento con scordia.info domani giovedì 27 ottobre alle 18 e 30 presso il 100 di agritazione al giornale di scordia si costituisce ufficialmente il presidio libera il titolato a carmelo agnone vittima di mafia la situazione libera ricordiamo è nata nel 1995 su una idea di donciotti che ha subito raccolto più di 300 fra gruppi e associazioni in realtà presente in tutto il territorio italiano in 20 e coordinamenti regionali 83 coordinamenti provinciali e 304 presidi locali a proposito di presidi locali abbiamo qui oggi studio i rappresentanti della situazione libera scordia che appunto si andrà a costituire domani e se salutiamo intanto katia agneto buonasera insieme a gretano balsamo che conosciamo perché stato per tanti anni a capo di un altro presidio di legalità di cui poi parleremo allora intanto iniziamo con katia intanto gre di spiegare cos'è la situazione libera intanto mi consenti un attimo di ringraziare scordia.info per questa cortese ospitalità di stasera a nome di libera libera così come diciamo da statuto è secondo le normative vigenti è una associazione di promozione sociale è un'associazione a partitica è un'associazione a confessionale e senza scopro di lucro che persegue delle finalità di chiaramente utilità sociale e di senso chiaramente di civico e promozioni di attività chiaramente sociali libera nasce come associazione sin dall'inizio aggregante è un'associazione che come già anticipato tu aggrega tantissime altre associazioni che adesso hanno aderito ma anche sindacati anche parrocchie anche vari gruppi movimenti studenteschi eccetera ed è un'associazione che ha fatto di questa aggregazione un suo grande punto di forza per perseguire chiaramente le sue le sue finalità fondamentalmente libera nasce anzitutto contro qualcosa chiaramente contro le mafie e contro la corruzione ma non soltanto contro ma nasce anche per libera è un'associazione che si occupa chiaramente di tutela chiaramente dei diritti civili che si occupa di giustizia sociale che si occupa di ricerca della verità di memoria e anche di una diciamo tutela di una cittadinanza di un vivere la cittadinanza anche e nello spirito chiaramente della nostra costituzione repubblicana questi valori sono stati appunto dei valori aggreganti queste finalità sono state finalità aggreganti per tantissime altre realtà chiaramente territoriali in ambito nazionale e ora anche internazionale ricordiamo che libera ultimamente è un soggetto aggregante anche di associazione a carattere internazionale e libera nasce come già anticipato da una idea di don luigi ciotti nasce nel 1995 viene appunto sottoscritto questo statuto ma mi piace appunto per capire assolutamente così libera raccontare un aneddoto che riguarda proprio la sua nascita tre mesi prima che appunto il 25 marzo del 95 nascesse libera accade che don ciotti da diciamo notizie chiaramente alla stampa che era nato questo cartello di associazioni già il cartello di associazioni ci fa capire appunto questa questa tipologia aggregante di associazione ma la cosa importante che non soltanto da questa notizia anticipa questa notizia ancor prima chiaramente della costituzione ufficiale ma contestualmente fa una cosa che direi è un atto assolutamente identificativo della dell'associazione dei suoi scopi ovvero lancia una petizione popolare praticamente mette in campo una raccolta di firme per avviare un iter legislativo ovviamente in iniziativa popolare e per avere finalmente in italia una legge che potesse come dire destinare i beni confiscati alla mafia o frutto chiaramente di attività di corruzione di potesse destinarli a delle chiaramente attività sociali al sociale e quindi chiaramente una riutilizzazione di questi beni questa questa sua e questo suo atto è stato molto più forte ancora più forte di quello che poi sarebbe stata la costituzione del presidio stesso e infatti grazie alla sua caparbietà sono state raccolte un milione di firme grazie a lui appena un anno dopo che poi libera venisse costituita accade che l'italia ha una legge appunto la 109 del 95 che è per l'appunto quella legge che destina finalmente i beni confiscati alla mafia da questa possibilità di destinazione dei beni confiscati alla mafia per il suo per il loro riutilizzo appunto per finalità di tipo sociale una missione specifica sì 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 allora una missione appunto si anticipa già appunto in questo in gesto che don ciotti fece appunto ab inizio ed è quella appunto della del riutilizzo dei beni chiaramente confiscati alla mafia la legge che lui stesso ha voluto chiaramente fortissimamente fa e chiaramente da un'aggiunta molto importante già alla legge sulla confisca dei beni la rognoni la torre che già noi avevamo e quindi anche oggi una prima missione diciamo di libera è questa è come dire come diceva don ciotti ridare il mal tolto chiaramente alla società civile soprattutto a chi ne ha più bisogno questa è la prima missione in questa che riguarda chiaramente i beni e i proventi dell'attività di corruzione un'altra missione libera sicuramente la memoria la coltivazione della della memoria ricordare le vittime di mafia ma non soltanto ricordare loro ma stare molto vicino per esempio ai parenti delle vittime di mafia ascoltare le loro testimonianze e fare in modo che le loro testimonianze siano anche soprattutto una conoscenza della vita di alcune persone e che chiaramente è stata spezzata chiaramente arrivato a un certo momento ma rappresentano anche un pezzo di storia del nostro paese altra missione sempre riferimento a libera e sicuramente il discorso della giustizia libera persegue chiaramente la ricerca della verità nelle aule dei tribunali si costituisce parte civile in dei processi penali chiaramente anche di particolare importanza ed avviato come come sappiamo tutta una serie di attività anche a tutela e a salvaguardia dei minori ad esempio che sono sottoposti a dei procedimenti penali tipo liberi di scegliere ricordiamo il progetto che ha visto la partecipazione dell'attuale presidente del tribunale dei minori il dottore di bella ma si è occupato anche con amonì un altro insomma progetto di cercare di recupero e di protezione dei minori a rischio soprattutto in ultimo un'attività non meno importante ovviamente di formazione che libera fa all'interno delle scuole innanzitutto grazie ad un protocollo di intesa avviato appunto col ministero dell'interno ma anche in altre sedi diciamo così di istruzione in qualche modo e di educazione non so le parrocchie centri di aggregazione eccetera quindi diciamo un'attività a 360 gradi che ha dei focus chiaramente molto specifici allora vediamo basso abbiamo inguardato quella che la missione obiettivi come nata libera per tanti anni è stato a capo di un altro presidio stato nell'arma dei carabinieri un altro presidio di legalità che appunto appunto la caserma dei carabinieri scordia oggi cosa mi ha spinto a vivere un altro presidio di legalità con un altro ruolo altrettanto importante io ci serve persone molto che da tanti anni hanno lavorato in che nascesse questo presidio io sono già uno degli ultimi arrivati e il mio percorso secondo me dove era naturale innanzitutto dico subito che per i miei avvenimenti personali la vita mi ha dato un'altra opportunità un'opportunità che non potevo non potevo comunque spiegare soltanto diciamo a fare nulla e quindi questa per me era una prosecuzione naturale del mio lavoro diciamo della mia professione la mia non dico manco professione perché l'essere carabiniere che rimangono io dico scherzando essere sbirro rimane dentro quindi secondo me la cosa più naturale era proprio entrare in questa associazione libera e dare per quel minimo che possa dare io la mia disponibilità e le mie conoscenze anche quella una forma diversa di spirito di servizio assolutamente per la comunità perché noi stiamo nasciamo e diciamo domani noi siamo qua non ci siamo noi siamo per voi ma abbiamo bisogno anche di voi cittadini cosa che io chiedevo pure al quando facevo il comandante della stazione perché l'arma da solo non fa niente quindi la diciamo il legame con le associazioni con i cittadini con le varie autorità con le parrocchie eccetera era per me un fatto importante la scuola andava a scuola a parlare di legalità quindi è un continuo naturale di questo percorso come far sentire la presenza nel territorio ed essere anche coadiuvati da questo territorio nella lotta contro l'illegalità ogni giorno certamente dalle cose più spicciole che possono sembrare stupide danno rispettare anche segnali no è una forma di legalità a tutti gli effetti spesso comune a molti a molti di noi e direi quindi di continuare con katia e vi siete presentati come costituendo libera attualmente siete fino alle venti del caso di appunto costituendo libera scordia domani sarà appunto costituito il presidio quindi avete fatto un percorso ecco che tipo di percorso avete fatto in questi mesi per arrivare domani a questa costituzione vera e propria sì in realtà libera nasce sì intanto dall'idea insomma di poche persone che chiaramente non possiamo far altro che ringraziare anche questa sede che hanno avuto questa intuizione di portare chiaramente un presidio e di avere un presidio di libera scordia ma chiaramente è frutto di un percorso di formazione che è peraltro specificamente previsto dallo statuto di libera e quindi questo percorso ci deve essere questo percorso deve essere come stato di fatto seguito dai referenti chiaramente di libera nella fattispecie nostro percorso è stato seguito molto da vicino dei nostri referenti regionali vittorio avvenuto chiaramente tiziana i quali non ci hanno mai fatto mancare appunto il loro sostegno ci siamo avvalsi di loro in ogni momento ma soprattutto la nostra formazione ha avuto degli step anche chiaramente ben precisi ad esempio in riferimento all'excursus normativo della legislazione antimafia averne chiaramente una conoscenza rispetto chiaramente al libera in quanto tale quindi di esamina dello statuto di libera del regolamento l'esame da di cosa è di fatto un patto di presidio al quale noi chiaramente poi ci accingiamo come adeguamento di quelli che sono gli obiettivi di libera rispetto alla contestualizzazione nel nostro territorio e di oltre e ci siamo occupati anche di memoria abbiamo ascoltato delle testimonianze di parenti di vittime di mafia è una cosa diciamo invito tutti a fare questa questa esperienza di ascolto di queste di queste testimonianze perché è stata veramente una cosa che ci ha toccato il cuore e non solo ci ha dato anche tanta energia e tanta tanta voglia ecco di fare e infine praticamente si è fatta chiaramente anche una disamina di quelle che potevano essere le nostre prospettive di attività chiaramente rispetto anche al territorio per la base fa ne ha accennato ecco alla luce della sua esperienza professionale nelle forze d'ordine per tanti anni quanto è importante per chi si trova appunto a combattere diverse forme sul campo di legalità ogni giorno avere nel proprio territorio realtà associative come libera di rapporto io ti dico per esperienza personale non è semplice non è molto facile nel senso perché perché noi lavoriamo facciamo indagini in certi settori eccetera perché non possiamo divulgare io quando ho iniziato qui non non vi erano associazioni del tipo di questo tipo nacque poi l'associazione antiraggett antras eccetera e la pure non si erano verificate alcune cose ma noi non potevamo comunque dire cosa noi facevamo per quando potesse essere necessario per loro saperlo invece avere l'associazione libera importante per penso per per le istituzioni per l'arma dei carabinieri che qua è presente chiaramente dell'arma dei carabinieri perché sappiamo che esiste un diciamo un gruppo di persone alle quali l'arma si può rivolgere per per fare quel quell'azione di legalità legalità soprattutto rivolta ai giovani perché chi è grande che 50 60 anni andagli a parlare diciamo conta poco e continuare assieme a loro secondo me si dovrebbe avere proprio una bella azione di sinergia in questa situazione e poi se l'arma viene a conoscenza che ve la possibilità che so di un bene confiscato alla mafia può interessare la mente libera che precisiamo libera non gestisce direttamente i beni confiscati nella mafia ma fa una specie di ponte per le varie altre soluzioni per le cooperative c'era così come diceva cari anche a livello della criminalità internazionale quindi penso che sarebbe un grande apporto per avere un'associazione che promuove la legalità ma rende più semplice il lavoro di male io sono arrivato qui ripeto come io ringrazio diciamo gli avvenimenti della vita che mi hanno portato a scordia in modo quasi quasi reali misterioso con accadimenti strani che mi hanno portato a quella scordia non c'era nulla non arrivi c'è qualcuno su cui confrontarti e con sperimentare nuove cose eccetera ripeto per me è fondamentale potrebbe essere un apporto importante per conoscere meglio la realtà territoriale c'è libera comunque diciamo appunto ha organizzato già diversa serie tante inserire perché come presidio ha fatto questo percorso e le ricordiamo qualcuna la manifestazione per la pace la giornata della memoria la commemorazione di carmela agnello e beppe montana la presenza del volume recente di nello scavo cineform appunto tante iniziative che avete organizzato nel corso di questi mesi anche per farvi conoscere per segnare una presenza all'interno del territorio e quali iniziative ulteriori pensate una volta costituiti di realizzare nel territorio e con quali soggetti magari interloquire nella nostra città innanzitutto come diceva katia la nostra katia ci sono dobbiamo dire sempre grazie alle intuizioni pochissime quelle pochissime persone che hanno avuto l'idea di creare libera e che grazie a loro e poi ci siamo ancora da tutti gli altri e aver organizzato queste manifestazioni ma io noi faremo chiaramente quel punto di situazione ma quello che noi faremo sicuramente è il continuare il progetto di vibra quindi continuare il discorso della memoria della degli incontri che mi pare ci sono già pure delle sono state già dei contatti con il liceo per fare dei dei corsi di formazione degli incontri con gli studenti in questo genere ancora non siamo forse avanti sul discorso del dei beni dell'uso sociale dei beni confiscati dalla mafia ma penso che poi libera si occuperà pure di questi quelli soggetti poi con cui andremo a contattare sono le varie associazioni come diceva katia le parrocchie le istituzioni e le scuole e scuole per me è fondamentale io ricordo e ripeto non avevo poi appoggio da nessuno anzi tranne quando poi nato l'anti racket e abbiamo fatto qualche lezione insieme io sono partito invitato da alcuni insegnanti che hanno avuto diciamo l'occhio lungo diciamo vedevano oltre di quello per parlare con il figlio addirittura con i bambini dell'asilo dell'asilo della scuola elementare ho passato delle giornate con loro per mangiare mangiando con loro parlando delle carità andando in divisa erano contentissimi queste ragazze quindi libera diciamo deve chiaramente entrare in questi in questi ambiti perché i bambini se vede partendo dei bambini sulla legalità spiegando nel modo semplice e i bambini sono molto più avanti e oggi e penso che sono molto curiosi se sanno il nostro futuro ma noi dobbiamo diciamo accompagnarli e soltanto impariamo anche noi perché non è il discorso di libera come diciamo dell'educazione eccetera noi che noi educhiamo a ci anche e dobbiamo educare è una è una uno scambio reciproco uno smorso proprio e per l'iniziativa parliamo con katia per l'iniziativa di domani da tempo che ci lavorate è tutto pronto sappiamo che visita anche ovviamente riuniti come gruppo come associazione e contando diciamo chi saranno i referenti presenti e perché come associazioni come cittadini è importante essere presenti a questo appuntamento certo è un appuntamento molto importante per noi siamo molto felici anche particolarmente emozionati anche perché abbiamo avuto molte vicissitudini legate anche al covid legate ad altre problematiche finalmente ce l'abbiamo fatta finalmente riusciremo ad avere questo momento veramente importante verrà firmato chiaramente il patto di presidio è un momento di molto solenne significativo in col quale noi prendiamo un impegno innanzitutto tra di noi e tra di noi soci ma anche soprattutto un impegno chiaramente con la città avremo chiaramente anche i nostri referenti regionali che come detto non ci hanno mai lasciati soli e non ci lanceranno soli nemmeno appunto domani nell'atto chiaramente solenne per l'appunto della firma sono Vittorio Avveduto e Tiziana Tracuzzi noi li ringraziamo enormemente già sin da ora per la loro presenza che non è soltanto una presenza fisica ma è una presenza che non ci fa sentire soli ne oggi e ci dà chiaramente delle prospettive di confronto e di loro appoggio che sono assolutamente certe anche in futuro quindi speriamo di essere in tanti ci sono tanti motivi chiaramente per per pervenire perché avremo un presidio e finalmente di libera scordia il presidio 305 perché sarà dedicato a Carmelo Agnone che ricordiamolo un poliziotto ucciso chiaramente dalla mafia di scordia non dimentichiamo chiaramente anche le nostre vittime di mafia e perché riteniamo fortemente che anche oggi e soprattutto oggi gli spazi di libertà debbano essere occupati dalla partecipazione e quindi libera come abbiamo come abbiamo chiaramente sposto seppur brevemente a tante sfaccettature a tante attività nelle quali ciascuno può riconoscersi o può praticamente accostarsi anche come curiosità sarà il nostro battesimo siete tutti invitati e tra l'altro coincide questa vostra iniziativa anche con l'apertura del tesseramento quindi c'erano un'altra fase certo verranno date anche delucidazioni in tal senso rispetto chiaramente al tesseramento ovviamente del 2023 va bene quindi noi abbiamo così concluso ringraziamo Katia Agnello grazie per essere presente insieme a Gretano Balsamo noi vi rinnoviamo l'invito all'appuntamento di domani ricordiamo giovedì 27 alle ore 18.30 presso il centro di aggregazione giovedì di scordia dove si costruisce ufficialmente il presidio libera intitolato a Carmelo Agnone noi ringraziamo tutti voi ringraziamo anche Fabio Scionti per la regia che ha curato la regia per quanto riguarda la puntata di oggi e ci sentiamo ai prossimi appuntamenti grazie